...netterla nel microonde. Sai, mi sa che hai trovato una traccia. Senti, paghiamo, d'accordo? Ehi, quanto costa quello? 14 dollari e 25. Maledizione, devo aver lasciato il portafoglio da qualche parte. Mani in alto, figli di bagascia! Non ti muovete! Che io aspetta, non ci capisco niente, sono serio. Stasito! Ma insomma, cosa è? Atterri sempre l'agente più solello. Chiudi, svelo, ripeto, tu è cazzo di fogna. Ascolta, siamo agenti di polizia. No, tu non sei agenti. Io non sono stupido. No, no, no. Aspetti, lascia. Io so, io ho visti i sbirri. Sino fuori il distintivo, ok? Distintivi? Due distintivi, figli di puttana? Ti do io distintivi. Ecco, 90 cent e l'una. Io te ne vendo un paio. D'accordo, hai otto distintivi. Te l'ho detto, sta storia degli sbirri non attacca. Già, io ti scoppio. Io ti scoppio. Mi scoppi? Ma che cazzo... No, fammi un pompino che è meglio. Voi credi che io sia stupido? Io ho già ucciso un uomo. Scoppiamo dopo, va bene? Dopo scoppiamo, ma adesso aspetta. Io sto per poterti. Vuol dire che io e questo figlio di puttana non vibriamo in questo periodo. Ecco che voglio dire, ok? Sai qualcosa che mi devi dire? Sì, voglio dirti una cosa. Che stai sapendo di me. Ehi, questo tizio ha una pistola, eh? Sì, se la hai con me. E cosa volete? Sì, se la hai con me. Ma non la fatti avanti, va bene? D'accordo, io me ne vado. Ehi, ferma tu! No, sta fermo tu. Oh, merda. Sono fottuto. Ora spostati, metti giù la pistola e dammi un pacchetto di morbidoni alla frutta tropicale. È una scatola di mentine. Bella seratina, io vado a letto. Allora...